Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming e questa è una introduzione a una cosa a cui tengo particolarmente e a un ritorno, effettivamente. Ragazzi, la serie di World of Warcraft ricomincia anche qui su YouTube, pre-registrata però, a differenza di quello che avviene su Twitch, ovviamente che è in live. Ho già annunciato questa cosa ma mancava un vlog, mancava un video un pochettino riassuntivo di tutto, perciò veramente pochi minuti per spiegarvi un pochettino che cosa succede. Abbiamo lasciato sospesa la serie di World of Warcraft che è cominciata già sul canale da un bel po' di tempo perché avevo stoppato sostanzialmente tutte le operazioni su World of Warcraft ma recentemente sono tornate a essere presenti tra le mie attività sul canale sia in live che anche con questo video pre-registrate. Cosa vuol dire questo? Che rivedrete dei contenuti ma attenzione vi devo spiegare un pochettino come funziona. Prima la serie di World of Warcraft che avete visto erano sostanzialmente degli estratti tagliati apposta dalle live, niente più di questo. Adesso invece le cose saranno separate, mentre le live su Twitch continueranno con dei contenuti più semplici insomma in cui si sta in compagnia e si gioca anche insieme ok? Quindi tutto quanto quello che verrà fatto in live rimarrà in live, poi riapploodato sul secondo canale potete recuperarlo se volete, il link è qui sotto in descrizione. Qui sul primo canale con la serie di World of Warcraft ho intenzione di fare dei contenuti più mirati. Quindi sarà una serie più sporadica perché sarà basata su quello che sono veramente soltanto i nuovi contenuti. D'accordo? Per esempio vi sto per portare una puntata sulla nuova zona iniziale di World of Warcraft che è stata introdotta solo recentemente con quello che sta per arrivare della nuova espansione di Shadowlands. C'è una zona di inizio per i nuovi giocatori che prima non c'era e quindi la vivremo insieme. Oppure gli eventi che arriveranno con la pre-patch di Shadowlands a brevissimo, anche quelli ve li porterò e li vivremo qui anche pre-registrati, apposta con il personaggio che conoscete. Oppure quando uscirà Shadowlands io farò tutto quanto il percorso attraverso tutto il leveling delle nuove zone, ve le mostrerò più o meno tutte quante, vedremo tutti i nuovi dungeon, poi quando usciranno i ride, piano piano, 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 vedremo tutto quanto ragazzi. Però sarà una serie basata soltanto sui contenuti nuovi e non più sul gameplay in senso stretto. D'accordo? Quindi ragazzi è questo. La serie di World of Warcraft ricomincia. Con l'occasione vi dico seguitemi su Twitch perché gran parte delle attività saranno di fatto lì. Saremo in live praticamente tutti i giorni, già siamo in live, le live sono ricominciate, quindi se non l'avete fatto già seguitemi su Twitch, mi raccomando il link è qui sotto in descrizione e però seguitemi anche qui sul canale YouTube perché ci saranno dei contenuti e il prossimo ci sarà proprio domani e vi mostrerò per l'appunto la nuova zona d'inizio dei personaggi. D'accordo ragazzi? Questo è tutto, spero tanto che la serie vi piaccia e spero tanto che siate felici del ritorno di World of Warcraft sul canale. A presto ragazzi!